buon pomeriggio di questo giovedì 23 novembre ore 16.07 attendo che siate collegati perché c'è una notizia sul paragone una notizia che stanno tralasciando in tanti ma che in verità in verità è preoccupante perché stanno programmando qualcosina di particolare perché quando vedi queste immagini no queste immagini che arrivano dalla cina con gli ospedali pieni la gente nei corridoi mi ricordo ritorno indietro negli anni e ritorno indietro per la precisione a tre anni fa quando nessuno nessuno pensava dicevo intanto in cina è distante nessuno avrebbe mai pensato a quello che e poi alla fine ci siamo ritrovati in un pandemonio generale bene nuovo allarme dalla cina e a lanciare la cosa che è la solita oms attenzione attenzione perché è una notizia importante che molti stanno tralasciando e questa cosa è preoccupante preoccupante perché non ne parlano quindi e fecero così anche inizialmente con quello che poi fu il pandemonio generale quindi ciao stefi bella dance ciao giannina ciao baldo ciao cosimo buon pomeriggio da torre la pallo mi dice la pillo perdonatemi frazione di porto cesareo e abbiamo giannina abbiamo stefi bella dance abbiamo cosimo abbiamo maria chiara abbiamo le antonio la grande e ciao a tutti ciao vedo i collegati i primi collegati allora le notizie che abbiamo pubblicato sul paragone punto it mi sono impappinato le ospedali pieni dice il titolo tommaso crocco ha trattato questa notizia scrivendo un articolo molto serio perché allarmi pieni un nuovo allarme sanitario proveniente dalla cina l'annuncio dell'oms intanto prima cosa che dico prima di legge l'articolo dico che i cinesi mi hanno veramente fatto nei due pallone veramente è insopportabile questa cosa dalla cina e altra cosa che dico la notifica non è ovviamente arrivata da quello che mi dicono quindi senza notifica ovviamente la gente non potrà ricevere la notizia attendo qualche proprio qualche istante poi leggeremo insieme questa notizia che al quanto al quanto seria eccoci qua vediamo intanto siamo arrivata qualche notifica di sorta ma dubito che arrivi infatti nulla nulla da vedere eccoci qua eccoci qua vediamo attendo 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 non riesco a capire se sono indiretto o meno datemi un segnale di vita datemi un segno di vita ok mi dicono che ci siamo ci siamo eccoci qua allora ciao ciao cosimo eccoci qua adesso vi vedo mi si era piantato il software ciao luca esposito buon pomeriggio anche te anna petruzzi buon pomeriggio maria chiara vicky e ho l'ansia non dire che hai l'ansia vicky però ti leggerò la notizia perché sinceramente non è una notizia proprio felicissima un nuovo allarme sanitario proveniente ancora una volta dalla cina parte così l'articolo di dell'amico tommaso e che ha già spinto tanti scienziati a esprimere preoccupazioni sottolineando come l'emergenza potrebbe mettere a rischio le persone più fragili torniamo sui fragili secondo voi cosa mai vorranno fare io sorrido ma è un sorriso sarcastico di cosa stiamo parlando dell'ultimo report diffuso dalle autorità cinesi della commissione nazionale per la salute che hanno pubblicamente riportato un aumento dell'incidenza delle malattie respiratorie nel paese il tutto a poca ore di distanza da un altro dossier diffuso da promed nel quale si parla di cluster di polmonite non diagnosticata nei bambini della cina settentrionale quindi parliamo della cina del nord cina del nord dove ci sono veramente tanti tanti bambini con questo cluster di polmonite come riportato dal libero quotidiano quindi in italia c'è chi ne parla per fortuna questo è proprio per questo motivo l'organizzazione mondiale della sanità detta anche oms ha presentato una richiesta ufficiale a pechino per ottenere informazioni dettagliate sull'aumento dei casi questa volta si è mossa prima ha detto non possiamo rischiare come l'altra volta di trovarci in una cosa organizzata male attenzione guardate qua l'immagine ve la faccio vedere e la guardate in primo piano vi faccio vedere questa situazione ospedali in cina avete visto è veramente una situazione preoccupante la sesso ams ha anche voluto rivolgersi direttamente alla popolazione cinese consigliando ascoltate i consigli e ritorniamo coi consigli con le persone con i consiglieri bravissimi di seguito le misure per ridurre il rischio di malattie respiratorie che comprendono che comprendono quali sono secondo voi provate a dire cosa stanno consigliando in cina provate vediamo se le beccate la vaccinazione il tenersi a distanza delle persone malate il mantenere a casa rimanere a casa quando si è malati quindi l'isolamento il sottoporsi a esami e cure mediche se necessario l'indossare maschere mascherine se necessario il garantire una buona ventilazione e lavarsi regolarmente le mani mi sembra quasi peccato che manchi ma barbara d'urso su mediaset questa volta e non possiamo vedere lei che insegnava lavarsi le mani no mi sembra di tornare veramente indietro nel tempo dicono non è chiaro se questi siano associate un aumento generale delle infezioni respiratorie precedentemente segnalato dalle autorità cinesi o se si tratti di eventi separati ha spiegato l'oms che dunque ha richiesto ulteriori informazioni epidemiologiche e cliniche nonché risultati di laboratorio di questi cluster segnalati tra i bambini attraverso il meccanismo del regolamento sanitario internazionale attenzione perché la notizia è vera non è purtroppo purtroppo lo dico non è una fake news e ci sono diverse notizie interessante oggi ma ve ne parlerò alle ore 19 questo era primo è un piccolo intrammezzo pomeridiano diciamo una sorta di caffè preso insieme il la cosa però ufficiale l'oms si è mossa con le autorità cinesi perché c'è veramente ci sono gli ospedali saturi in cina per questa presunta e polmonite e dove hanno trovato questi cluster della polmonite non sanno che e a cosa siano dovuti attenzione perché ritroveremo i vaccini ritroveremo le mascherine l'isolamento il lockdown il green pass tutte queste schifezze ma sui vaccini ho qualche dubbio soprattutto dopo quello che è uscito ieri sera e che ho anticipato ieri nel pomeriggio sul ministro l'ex ministro speranza che attenzione indagato addirittura per omicidio quindi ne vedremo delle belle detto questo amici io sinceramente come resistito la prima volta resistere una seconda una terza una quarta ci riproveranno ogni dubbio è lecito la cosa è certa che dal 31 di novembre non devo andare a capire cosa hanno organizzato la nostra europa con l'oms la nostra bella italia con l'oms perché devo capire bene questa cosa ma sembra che l'oms deciderà tac così con uno schiocco di dito di dito di dita per tutti a questo punto siamo veramente veramente curiosi potrebbe essere aurora dice potrebbe essere dovuta ai vaccini e le polmonite non lo so ogni dubbio è lecito amici ne capiremo di più la cosa è certa le situazioni in cina come sempre parte dalla cina a questo punto mi dico perché sempre dalla cina perché sempre dalla cina cinesi basta basta amici buon pomeriggio ricomincio un'altra farsa dice maurizio immobili ogni dubbio è più che lecito indagato e tutta la repubblica italiana intanto gli avvocati vi do questa news gli avvocati di delle di speranza hanno già chiesto al tribunale dei ministri di archiviare di archiviare no la sua che della sua la denuncia nei suoi confronti questa queste 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 indagini nei suoi confronti ha già chiesto di archiviare vorrà vedere se la meloni e i ministri del governo attuale di centrodestra avranno nei nostri confronti la faccia tossa di archiviare una pratica nei confronti di speranza quando è venuto fuori tutto nero su bianco di quello che hanno fatto che ci hanno isolati obbligati senza avere nessun documento in mano che attestasse la sicurezza e la veridicità delle cose che dicevano quindi attenzione in verità con tante fake news sono curioso sono curioso spero che non sarà solo speranza ad essere indagato magari un occhio anche alla cina dice maria assunta l'occhio alla cina bisogna guardarla questa volta facciamoci furbi amici questa volta facciamoci furbi è importante non farci prendere in giro io vi auguro un buon pomeriggio a tutti ci tenevo a darvi questa notizia al volo una durata di 8 9 minuti detto questo verrà insabbiato tutto dicono come se allora sabrina dice verrà insabbiato tutto è relativamente a speranza vedremo vedremo perché se insabbieranno potremmo anche andare in piazza per difendere i nostri diritti dire noi speranza lo vogliamo indagato lo vogliamo e lo vogliamo se è colpevole lo vogliamo dove deve stare attenzione io quindi vedremo quello che farà il tribunale dopodiché ci muoveremo tribunale dei ministri non potete archiviare sappiatelo perché noi la verità ormai la sappiamo tutti la sanno e quindi non potete far finta di nulla ciao a tutti buon pomeriggio alle ore 19 collegati ore 19 perché ci sono notizie importanti perché si sta ribaltando la politica mondiale attenzione la sinistra perde ovunque però ne parleremo dopo ciao a tutti